15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, we have ignition sequence start, the engines are on, 4, 3, 2, 1, 0, coming out, we have commit, we have liftoff, liftoff at 7.51am Eastern Standard Time. Sono le 7.51, ora di uso, l'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio, sta prendendo quota, è molto bello da vedere, c'è una grande fiamma luminosa, pesa 4.000 tonnellate. La 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 The engine The engine The engine The engines are on The engine is on The engine is on Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!